Va bene, oggi volevo continuare a parlarvi della preghiera, in particolare le condizioni che sono necessarie per essere esauditi, cioè ci sono delle condizioni che se si verificano, che se ci sono queste condizioni fanno in modo che le nostre preghiere sono esaudite davanti al Signore, dal Signore. La preghiera, come anche abbiamo già detto, la preghiera è parlare con Dio, la preghiera è spandere la propria anima davanti al Signore, tutte le necessità, tutti i bisogni, tutte le problematiche, tutte le difficoltà vengono presentate davanti a Dio. Si fa questo viaggio, ci si chiude nella propria cameretta e si prega il Dio, o il proprio luogo segreto, e si dice cameretta per indicare quel luogo segreto, quel luogo, diciamo che per ciascuno è importante per raccogliersi in preghiera, per estranearsi dal mondo, chiudere il mondo fuori da quel luogo e concentrarsi e pregare e invocare gli Dio viventi, per dedicare del tempo in preghiera, per parlare col Signore, col dovuto rispetto, nella maniera che piace al Signore, che viene esposta nelle sacre scritture. L'altra cosa che dobbiamo sapere sulla preghiera è che ci sono determinate condizioni che devono esserci per essere esauditi, per ottenere l'esaudimento della preghiera. Il primo punto da considerare è che bisogna osservare i comandamenti di Dio, cioè le sacre scritture ci fanno sapere che per essere esauditi è necessaria che ci sia questa condizione, condizione tra le altre, questa condizione che bisogna necessariamente osservare i comandamenti di Dio, quindi è necessario che ognuno di noi esamini di continuo se stesso, esamini se stesso per vedere se è nella fede, per vedere se è nella retta via, nella via che piace al Signore, se si sta conducendo come piace a Dio, questa è una delle condizioni. E andiamo a leggere nel Vangelo di Giovanni, Giovanni al capitolo 15 dice queste parole, scrive queste parole, capitolo 15 al versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto, vedete? Quindi questa è una condizione importante, dopo andremo a vedere che sempre Giovanni ce lo dice in una sua epistola, questa condizione per domandare quello che noi vogliamo, quindi c'è una condizione importante, se dimorate in me, quindi prima di tutto per ottenere esaudite le preghiere bisogna conoscere il Signore, bisogna dimorare in Cristo e bisogna anche che si verifichi il contrario, cioè che Cristo dimori in noi, che la parola dimori in noi. Quindi una cosa molto importante, osservando i comandamenti, uno dei comandamenti da osservare è proprio quella di studiare le Sacre Scritture, di studiare la parola di Dio, perché la parola dell'iddio vivente deve dimorare in noi, cioè non è una cosa che possiamo tralasciare. La preghiera è strettamente legata e connessa allo studio della parola, alla conoscenza di Dio, alla conoscenza della volontà di Dio, alla conoscenza di quello che Dio vuole che noi sappiamo e quello che vuole Dio che noi facciamo. Quindi queste sono cose importanti. Studiare, vedete quante cose sono utili, a quante cose è utile studiare le Sacre Scritture. Andiamo adesso nella prima epistola di Giovanni, dove ci dice, ci fa sapere chiaramente che questo dimorare significa appunto osservare, dimorare in Cristo significa osservare i Suoi comandamenti. E lo dice con queste parole, sì, in prima Giovanni al capitolo 3, dal versetto 22, leggiamo queste parole. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gratte. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo figliolo Gesù Cristo. E ci amiamo gli uni gli altri come Egli ce ne ha dato il comandamento. E chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli in esso. E da questo conosciamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Quindi vedete, fratelli, qui spiega cosa vuol dire dimorare in Cristo. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui. Quindi è importante osservare i comandamenti di Dio. Perché chi li osserva vuol dire che dimora in Cristo. E come abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, se uno dimora in Cristo, domandi quello che Lui vuole che Gli sarà dato. Quindi è una condizione importantissima questa di osservare i comandamenti di Dio. I comandamenti di Dio. Infatti Dio non esaudisce quelli che, vedete, c'è scritto chi crede, crede che crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo. Se uno non sa chi è Gesù Cristo, se uno non conosce chi è il figliolo di Dio, chi è Gesù Cristo, il figliolo di Dio, sappiate, oppure crede che Gesù non è Dio, o crede cose sbagliate che riguardano il figliolo, lui può anche domandare, può anche domandare, ma non sarà esaudito. Perché non conosce chi è realmente il figliolo Gesù, il figliolo di Dio. Qui bisogna tralasciare quella ignoranza dovuta al tempo. Cioè, nel senso, uno si è appena convertito, non sa ancora bene chi è Gesù, ma uno che si mette a studiare, che comincia a dire che secondo lui Gesù Cristo non è Dio, che Gesù Cristo è stato creato, che Gesù non è il Gesù che noi leggiamo nelle Sacre Scritture, quello lì non verrà esaudito. Come non verranno esauditi neanche in preghiera coloro che, vedete, qui c'è scritto anche che se ci amiamo gli uni gli altri, ma se ci amiamo noi dobbiamo farlo non solo a parole amarci, gli uni gli altri, noi fratelli e sorelle che siamo in comunione nel Signore, che siamo stati rigenerati spiritualmente da Dio, che siamo diventati fratelli gli uni degli altri, e non solo tra di noi dobbiamo amare anche quelli che non sono nostri fratelli, ma in modo particolare noi dobbiamo manifestare l'amore che abbiamo verso i fratelli, dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ma se uno comincia a mentire al suo fratello, comincia a insegnargli delle falsità, gli comincia a rapinare i soldi, gli toglie i soldi, attenzione, rapinare nel senso che non è che per forza ti devi puntare una pistola, eh? Ti dice, tieni, leggi questo libro qua, costa a me, cioè a lui gli è costato 5 euro, e a te te lo vendi a 20, e quelli sono soldi rubati, eh? Cioè non è che si ruba soltanto puntando un coltello o una pistola alla persona e gli si estorcono i soldi. Oppure gli si dà di osservare il comandamento della decima quando nelle Sacre Scritture non è comandato sotto la grazia, non è comandato di pagare la decima. Uno può darla liberamente però, se uno decide in cuor suo liberamente, di dare una quota costante. Può farlo, può farlo, ma nessuno gli deve obbligare di dare una certa quota, forzatamente. Quindi è l'obbligo di dare da parte dell'uomo, che è sbagliato, non è la volontà di dare quello che uno si sente di dare, la decima, due decime, il 20%, il 30%, quello che vuole dare, lui lo può dare davanti al Signore, è accettato davanti a Dio, se uno dà con cuore sincero, con cuore aperto, con cuore allegro. Ma se uno è oppresso dal comandamento di dare la decima, è una schiavitù, dopo diventa una schiavitù, la schiavitù della legge imposta da qualcuno, diciamo dal pastore, dal conduttore, da qualcuno, ecco che crea un peso. Vedete, quindi, amarci gli uni e gli altri significa dirci la verità, significa fare la volontà di Dio, significa amare i fratelli e cercare di fare il bene dei fratelli, ricercare il bene per la verità, per il Signore e per i fratelli. Significa darsi da fare, impegnarsi per fare quello che piace al Signore. Ora vediamo, ora vediamo appunto degli altri passi che ci confermano che per essere esauditi è necessario, è necessario quindi essere a posto davanti al Signore. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuamente esaminare la nostra vita alla luce, la nostra condotta, la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la nostra conoscenza, metterla sempre, esaminarla sempre, sempre alla luce delle Sacre Scritture. Perché a noi chi è che ci dice che ci stiamo conducendo bene, che i nostri pensieri vanno bene davanti al Signore, che la nostra conoscenza va bene davanti a Dio? È una conoscenza, diciamo, accettata da Dio, gradevole a Dio. Ce lo dicono le Sacre Scritture, quindi tutto è legato e tutto ruota attorno alle Sacre Scritture, ecco perché non ce ne dobbiamo mai allontanare e distanziare. Per quanto noi crediamo che lo Spirito Santo possa parlare con voce audibile, che possa rivelare attraverso i doni spirituali, con sogni, visioni e tante altre manifestazioni che Dio stabilisce in quel momento, tutto comunque deve ruotare attorno alle Sacre Scritture, nel senso che niente, nessuna nuova rivelazione, potrà contrastare, annullare, distruggere quello che è scritto nella parola di Dio. Quindi prima di tutto c'è la parola di Dio, ed ecco perché noi siamo tenuti a tenerci attaccati continuamente, a stare stretti e legati alla parola. Ogni cosa che ci viene detta, ogni cosa che noi facciamo, ogni cosa che noi diciamo agli altri di fare, deve essere sempre confermata dalle Sacre Scritture. Quindi non dobbiamo essere gli amanti delle novità, amanti di novità dottrinali, amanti di cose nuove, oggi siamo nel 2014, No, il tempo per il cristiano si è fermato al tempo della scrittura. Il tempo del cristiano è sempre quello, non è cambiato. Mille anni fa si dovevano attenere alle scritture, adesso ci dobbiamo attenere alle stesse cose che leggevano i nostri fratelli mille anni fa. Non è cambiato nulla. Cambiano i mezzi di comunicazione, sono cambiati i vestiti, sono cambiate certe cose, ma il cuore dell'uomo, come era mille anni fa e oggi, o era malvagio, e il cuore dell'uomo era malvagio mille anni fa ed aveva bisogno che Gesù Cristo intervenisse per salvarlo e per liberarlo dai suoi peccati, così come ce n'è bisogno oggi. Non è cambiato nulla. E per essere esauditi nelle proprie preghiere, nelle proprie richieste fatte a Dio, le stesse condizioni che valevano mille anni fa valgono oggi. Quindi vedete, per la parola, per la parola di Dio nella Bibbia, il tempo del cristiano è fermo, non è cambiato, non cambia. Per noi il tempo è sempre quello, è fermo alla prima chiesa, allo svilupparsi della prima chiesa. Le cose sono quelle che la chiesa deve desiderare, essere come era l'antica, la prima chiesa, e così dobbiamo essere noi. Quello è il nostro desiderio, la nostra ricerca, deve essere anche la nostra predicazione. Annunciare quel tipo di chiesa, oggi, che ci sia oggi. Perché quella è la vera chiesa, come deve essere. attenzione, non è che quella chiesa non aveva problemi o era santa senza peccato, no, anche loro sbagliavano, ed è scritto nella parola, anche Paolo sbagliava, anche Pietro ha sbagliato, e c'erano tanti problemi che però di volta in volta li affrontavano e cercavano di risolverli così come dobbiamo fare noi oggi. Però la potenza, la verità, l'insegnamento e la dottrina era la carità, la carità, quando si facevano le collette, le collette, le raccolte di denaro, si faceva, è scritto nella parola di Dio che anche sotto la grazia si facevano le raccolte di denaro. Ma non per costruire locali di culto, non per allargare i possedimenti materiali temporali di questa terra, di questo mondo, ma si raccoglievano i soldi per dare ai poveri, per dare ai poveri, ecco perché si facevano le collette, non per aumentare il proprio patrimonio immobiliare come associazione, come organizzazione, come ente morale, capite? Quindi si facevano le raccolte di soldi, ma avevano una destinazione ben precisa che era secondo la volontà di Dio, non era secondo la volontà dell'uomo per riempire le tasche di taluni o per inorgoglirsi davanti alle autorità. Noi abbiamo tot capitale, siamo un tot numero, quindi ci dovete considerare perché noi vi votiamo, capite? I credenti non sono una merce di scambio, né per il proprio stipendio e né per i voti. I credenti sono anime salvate da Gesù Cristo per il quale Gesù è morto e sono stati comprati a caro prezzo, è stato versato il sangue che è il prezzo di ogni credente. I credenti non sono dei bancomati, i credenti non sono dei voti da considerare solo delle persone per di cui vantarsi davanti alle autorità per ottenere dei privilegi. Vedete quindi, fratelli, bisogna considerarli per quello che sono, sono anime di cui ognuno di noi deve avere la massima affezione verso il fratello, non può assolutamente fargli del male, ingannarlo, mentirgli, ma deve in tutte le maniere fargli del bene e questo è una delle cose fondamentali richieste dalla parola di Dio. Poi ci sono tutti gli altri comandamenti, ci sono tanti comandamenti anche sotto la grazia che noi dobbiamo osservare e che la parola di Dio ci ordina di osservare, no? Questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi astegnate dalla fornicazione, che possediate il vostro corpo in santità ed onore. Il corpo va posseduto in santità ed onore, cioè noi il corpo, anche questo corpo, lo dobbiamo possedere e lo dobbiamo trattare in modo santo e onorevole, quindi in costume al mare non c'è niente di onorevole né di santo, capite? Il Tempio dello Spirito Santo che si presenta al mare in costumino davanti al mondo lì, cioè non c'è niente di santo e non c'è niente di onorevole, anzi, ma ve lo immaginate voi, no, ve lo immaginate voi andate da un Presidente degli Stati Uniti, da un Presidente di un Tribunale o da un medico, uno va da un medico perché gli deve fare un'operazione al cuore e lo vede in pantaloncini alla pinocchietto con maglie o a petto nudo, vieni, vieni che ti opero io, ma la fiducia, non c'è onore in questo, la fiducia viene meno, dice, ma questo mi deve aprire il cuore a me, se non ha capito neanche come si deve vestire onorevolmente, quali capacità sta mostrando, quindi questo per dirvi che anche il vestire ha la sua importanza, tutto nel cristiano ha la sua importanza e nulla va tralasciato, la condotta, la sua conoscenza che deve sviluppare della parola di Dio e della volontà di Dio e anche deve controllare attentamente i propri sentimenti, i propri pensieri, li deve tenere sotto controllo, li deve rendere schiavi di Cristo, schiavi della parola di Dio, non dobbiamo lasciare andare nulla di noi stessi, è vero, siamo nella carne, falliamo tutti molte cose, chi non fallisce nel parlare è un uomo perfetto, dice anche Giacomo, no? Però andiamo al Signore, esaminiamo noi stessi, ci riconosciamo, riconosciamo di aver peccato, di aver sbagliato e andiamo a Dio a chiedergli perdono e che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Quindi vi ho detto che stiamo parlando della condizione che è importante osservare i comandamenti di Dio e dobbiamo andare dobbiamo andare come un esempio nel Vangelo di Giovanni dove si parla del cieco nato per comprendere, per citare un esempio, no? Un altro esempio scritturale che conferma che il Dio esaudisce coloro che si santificano, cioè coloro che si attengono alla parola e non esaudisce quelli che invece sono ribelli, coloro che invece si conducono malamente, coloro che sono sviati quanto alla verità, quanto alla condotta, sono dissoluti, ma questi anche quando, cioè se loro disprezzano la parola di Dio e non la osservano, io sto parlando dei santi, se un credente che ha la parola di Dio che è stato salvato e disprezza la parola, i comandamenti di Dio, quando poi lui avrà bisogno o si pente amaramente veramente con tutto il cuore davanti al Signore e Dio gli dà il ravvedimento, allora può essere ascoltato da Dio ed esaudito perché si pente. Ma non è che pensi quel tale di voler continuare a vivere dissolutamente, no? Avendo disprezzato la parola di Dio quando ha bisogno di una malattia, un bisogno materiale, ha bisogno di un lavoro, ha bisogno di qualcosa, non si pensi quel tale di riceverlo da Dio, perché non lo tiene? Cioè se questo qui ha disprezzato il Dio e la sua parola non pensi poi di andare a Dio e ricevere qualcosa. Certamente se si pente con tutto il cuore e abbandona la via sbagliata che stava conducendo è chiaro che il Signore è misericordioso perché il nostro Dio, attenzione, come ho già detto con qualcuno, la misericordia di Dio, la pietà di Dio va vista sempre dentro la giustizia di Dio, cioè non si muove la misericordia di Dio fuori dalla sua giustizia. Quindi il Dio non è che ha misericordia di uno che di pietà non ne chiede, non ne ha bisogno e non la domanda. Se uno invece si pente, si umilia davanti a Dio, si batte il petto, riconosce con tutto il suo cuore di aver sbagliato, è chiaro che il suo peccato sarà perdonato, perché Dio, perché come è scritto, come Paolo dice a Timoteo, se noi siamo infedeli, egli invece rimane fedele, perché non può rinegare se stesso, se ha detto che ha misericordia di coloro che si umiliano e vanno a lui e chiedono pietà e misericordia, lo farà, egli lo farà, naturalmente dobbiamo farlo con cuore sincero e abbandonare il male, il peccato che stiamo, che si sta praticando. Leggiamo il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni dal versetto 30 e 31. 30 e 31. La situazione è questa. Gesù guarisce il cieco, una persona che era cieca dalla nascita. È stata interrogata dai farisei, perché un evidente miracolo era stato fatto, insomma, era riconosciuto da tutti e l'hanno chiamato per interrogarlo. E questi che hanno interrogato il cieco nato gli hanno voluto dire, gli hanno comunicato che Gesù lo ritenevano un uomo empio, un uomo peccatore, un uomo malvagio era ritenuto. E a sentire queste cose il cieco nato risponde a queste parole. Quell'uomo rispose e disse loro, questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Quindi, vedete, anche il cieco nato riconosce riconosce che per la potenza di Gesù, cioè essendo Gesù che lo ha guarito, ha avuto la potenza di guarirlo, il cieco nato ha voluto dire ma se questo ha avuto la potenza ed è stato esaudito da Dio nel guarirmi, non può essere che è malvagio Gesù, che è una persona malvagia. Perché, dice, si sa che Dio non esaudisce non esaudisce che non esaudisce i peccatori, vedete, non vengono esauditi i peccatori, ma anzi, sempre il cieco nato dice, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce, vedete, quindi vengono esauditi coloro che fanno la volontà di Dio e questo la scrittura ci insegna che dobbiamo dobbiamo attenerci strettamente ai comandamenti di Dio, osservarli, esaminare noi stessi, metterci, riconciliarci con Dio, metterci a posto con Dio se abbiamo commesso qualcosa che non va bene perché altrimenti le nostre preghiere non sono ascoltate, non saranno esaudite, perché camminiamo come trasgressori dei comandamenti di Dio come peccatori e Dio non esaudisce i peccatori. Un altro esempio lo voglio prendere che ci dice che Dio non esaudisce le preghiere se ci si trova in questa determinata condizione. Questa condizione la leggiamo la leggiamo in prima Pietro quando parla della famiglia. Pietro parla dei doveri coniugati, dei doveri che hanno sia le mogli che i mariti. Badate bene i doveri non ce li hanno in famiglia solo le mogli verso il marito ma ce li hanno anche i mariti verso le mogli. sappiatelo questo fate attenzione perché è giusto che sia così le mogli hanno dei doveri e i mariti hanno dei doveri pure verso la moglie e verso tutta la famiglia. Quindi capitolo 3 prima Pietro capitolo 3 versetto 7 l'Apostolo Pietro dice queste parole scrive queste parole parimente voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che il femminile. Portate loro onore poiché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita onde le vostre preghiere non siano impedite. Questo impedimento riguarda l'esaudimento cioè le preghiere cioè se un marito maltratta la moglie la disonora la disprezza la pittura picchia o gli fa del male che lei soffre sta male grida a Dio dice signore liberami sappiate che la preghiera di quel marito che fa tanto del male alla moglie non sarà neanche ascoltata da Dio non sarà sicuramente esaudita e questo è importante questa è un'altra cosa molto importante quindi badate bene a come ogni marito si conduce con sua moglie badate bene se uno maltratta la moglie la disonora la disprezza la deve onorare considerando che è il vaso più debole questo si porta agli onore amarla come Cristo ha amato la Chiesa addirittura quindi che ha dato se stesso al fine di santificarle di purificarle quindi Cristo ha dato se stesso per la Chiesa che è la sposa no? e così noi mariti dobbiamo dare la nostra vita anche per le nostre mogli cioè questo è portare onore dare tutto se stessi anche per la moglie non è che la moglie lì è stata costituita come aiuto dell'uomo e l'uomo ne può fare quello che vuole assolutamente no deve tenere il suo posto la donna è chiaro che deve tenere il suo posto così però anche l'uomo ha un posto che deve tenere ha dei comportamenti e delle cose degli obblighi che deve tenere e quindi li deve tenere li deve osservare altrimenti le sue preghiere non saranno neanche ascoltate e qui dice infatti infatti onde le vostre preghiere non siano impedite quindi se uno si mette a maltrattare la propria moglie le sue preghiere non saranno neanche ascoltate e questo era solo alcuni esempi vi ho fatto due esempi per farvi comprendere come come il Dio per il Signore è importante che noi ci santifichiamo che i credenti si santifichino e poi grazie anche a questo il Dio ascolta le nostre preghiere ma questa non è l'unica condizione è chiaro ci sono anche altre condizioni la seconda condizione che è anch'essa molto importante riguarda la fede la fede perché quando uno prega il Dio deve sapere chi è Dio che lo ascolta e deve credere che egli gli può dare quello che sta chiedendo perché se uno non ha fede in Dio se uno non ha fede in Dio chiede così tanto per chiedere ma non sarà esaudito quindi anche la fede è una condizione importante che deve assolutamente esserci nella preghiera quando si prega il Dio la certezza di quello che si domanda di ottenere quello che si domanda la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono quindi la fede è strettamente connessa alla certezza e nella fede non c'è spazio per il dubbio capite quindi si deve pregare con fede e per questa condizione andiamo a leggere nel Vangelo di Matteo al capitolo 21 nel racconto che fa Matteo del fico seccato Gesù per mezzo della sua fede fa seccare chiede che il il fico sia seccato sia maledetto e viene ed è stato maledetto e si è seccato tra e questo è avvenuto per la fede che Gesù aveva tra le altre cose quindi che sono scritte ci sono scritte anche queste parole quindi al versetto 21 quindi Matteo 21 dal versetto 21 e Gesù rispondendo disse loro io vi dico in verità se aveste fede e non dubitaste non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico ma se anche diceste a questo monte togliti di là e gettati nel mare sarebbe fatto tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete vedete Gesù dice se tutte le cose che domanderete nella preghiera se questa questa particella se condizionale se avete fede le otterrete cosa vuol dire vuol dire anche che se voi pregate senza avere fede in Dio senza avere fede in quello che domandate senza avere fede in Dio che possa darvi che abbia la potenza e la gloria di darvi quello che voi domandate se non ci credete in questo non otterrete nulla il credente l'uomo non otterrà nulla perché è scritto appunto che una delle condizioni importanti per il credente per ottenere esaudite le proprie preghiere è pregare con fede quindi fratelli un'altra cosa che noi credenti dobbiamo curare è la fede perché la fede deve essere abbondante in noi non deve essere abbondante solo per altre cose no perché infatti senza fede è scritto in ebrei senza fede è impossibile piacergli senza fede è impossibile piacere a Dio senza fede non si entra nel regno dei cieli quindi il credente sia per ottenere l'esaudimento delle sue preghiere e sia per entrare nel regno dei cieli per piacere a Dio in tutte le cose dovrà curare attentamente la sua fede quindi la fede è una di quelle cose che noi costantemente dobbiamo curare ed esaminare noi stessi dobbiamo continuamente esaminare noi stessi per vedere se siamo nella fede perché altrimenti le nostre preghiere non saranno neanche ascoltate la nostra vita cristiana sarà allo sfascio se non c'è fede e la fede è la certezza delle cose che si sperano perché noi cosa facciamo domandiamo e speriamo di riceverle ecco questa domanda e questa speranza diventano una certezza se c'è fede in noi se c'è fede noi dobbiamo pregare con fede credendo che Dio ci dia quello che noi abbiamo domandato quello che noi domandiamo dobbiamo essere sicuri che Dio ce lo possa dare se invece talvolta capita a me pure è capitato qualche volta infatti mi sono fermato poi a riflettere ho domandato una cosa a Dio e nella mia mente passava il pensiero domandi una cosa ma ti passa in mente anche un pensiero che dice no ma tu non sei degno no ma a te questo Dio non te lo dà ecco allora ho capito che stavo domandando ma non c'era in me la fede quel pensiero non era da Dio quel pensiero andava cacciato via andava eliminato quindi se noi nello stesso momento che gridiamo a Dio diciamo signore donami questo stiamo pensando ma a me non me lo dà questo è un dubbio questo è il dubbio che si è insinuato in noi che deve essere eliminato affrontato ed eliminato quando noi andiamo a pregare Dio dobbiamo essere sicuri che ci ascolta e che ci esaudisce per quello che gli domandiamo perché gli è potente da donarci al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo perché egli è Dio egli è il creatore di tutte le cose nulla è impossibile al nostro Dio nulla è impossibile all'Eterno se noi crediamo che nulla che il Dio ci possa dare tutto quello che noi gli domandiamo siamo sicuri e allora non dobbiamo dubitare i pensieri di dubbio dentro di noi non devono neanche passare li dobbiamo scacciare via immediatamente non devono esserci stiamo diciamo non stiamo risolvendo nulla stiamo pregando col dubbio ma se preghiamo col dubbio non otterremo mai l'esaudimento della preghiera perché una condizione fondamentale per ottenere le preghiere esaudite è appunto la fede e questo lo dice anche l'Apostolo Giacomo anche Giacomo al primo capitolo ai primi versetti dice queste parole a riguardo della preghiera fatta con fede dice così Giacomo capitolo 1 dal versetto 5 che se alcuno di voi manca di sapienza la chiegga a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare e gli sarà donata ma chiegga con fede senza star punto in dubbio perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore essendo uomo d'animo doppio instabile in tutte le sue vie vedete anche qui Giacomo dice che se uno manca di sapienza e noi ne abbiamo bisogno di sapienza fratelli anche noi abbiamo bisogno di sapienza abbiamo bisogno di sapienza e la dobbiamo domandare a Dio abbiamo bisogno anche anche di altre cose le dobbiamo domandare a Dio però come le dobbiamo domandare le dobbiamo domandare con fede perché le dobbiamo domandare con fede perché se noi preghiamo senza avere fiducia Giacomo dice non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, se uno prega senza avere fede non riceverà nulla, non riceverà nulla, quindi guardate quanto è importante pregare avendo fede. Quindi ci dobbiamo impegnare per trovare dov'è la fonte della fede, cioè come faccio io a crescere nella fede, come faccio io a esaminare me stesso se sono nella fede. Ebbene la scrittura ci insegna che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, così ha scritto Paolo ai Romani. Quindi ecco ancora siamo vedete sulla parola di Dio, cioè se la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, tutto, anche la fede, anche la fede è strettamente legata allo studio, alla conoscenza della parola di Dio. Quindi dobbiamo, vedete di nuovo, siamo esortati da Dio a studiare le Sacre Scritture, non a leggerle soltanto, ma a studiarle, non a leggere solo qualcosa che c'è scritto, ma a approfondirne il significato, a capirne il significato profondo che ha ogni singola parola. Cosa vuole intendere il Signore nella sua parola? Perché è da questa parola che la fede nostra viene fortificata, cresce. Quindi se la fede cresce, se la fede cresce attraverso lo studio, la meditazione della parola, ecco quindi l'esortazione a studiare la parola, perché studiando la parola che la fede cresce. E quindi se la fede cresce, quando noi andiamo a pregare Dio, se la fede è cresciuta in noi, se la fede è in noi, forte, radicata, non è smossa, quando preghiamo il Dio ci esaudisce, perché abbiamo pregato con fede. Quindi alla preghiera è strettamente legata la fede, e alla fede è strettamente legata alla parola di Dio. Quindi tutto, vedete, ruota attorno sempre alla parola di Dio, ecco perché noi vi esortiamo a studiare le scritture, ecco perché vi esortiamo a non uscire mai fuori dalle scritture, ecco perché noi vi esortiamo a considerare solo e soprattutto quello che c'è scritto nella parola di Dio. Perché tutto, il cristianesimo, ruota attorno alla parola, non ruota attorno a rivelazioni, non ruota attorno a una persona, non ruota attorno a un movimento religioso. Il cristianesimo, quello verace naturalmente, quello vero, a cui tutti noi dobbiamo attenerci, ruota attorno alla parola di Dio. Alla parola di Dio, ruota tutto attorno alla parola, e dalla parola noi non ci dobbiamo mai distanziare, non ci dobbiamo mai allontanare, dobbiamo dargli la giusta considerazione alla parola. La parola di Dio è una lampada al nostro piede, è la luce del nostro sentiero. Cos'è che ci dice quale sentiero dobbiamo percorrere? E' la parola di Dio, e quindi se vogliamo sapere dove andare, e come essere aiutati da Dio, come piacere a Dio, ecco quindi la parola illumina il sentiero che dobbiamo percorrere. Ecco perché non ci dobbiamo allontanare, e non solo, ma gli dobbiamo dare il giusto considerazione alla parola di Dio, cioè dobbiamo attenerci strettamente a quello che è scritto. Ma come è scritto? Dobbiamo prima di tutto capire cosa è scritto quello che leggiamo. Poi, se il significato letterale è impossibile, diciamo, prenderlo così com'è, allora cerchiamo un'interpretazione. Ma la maggior parte dei passaggi, soprattutto del Nuovo Testamento, lo dobbiamo prendere così come scritto. Lo dobbiamo prendere così come scritto. Noi cerchiamo di non interpretare in nessuna maniera la parola. Quando la interpretiamo, diciamo, confrontiamo dei passaggi della parola che spiegano altri passaggi della parola. Quindi non con la nostra mente, non con il nostro discernimento, non con i nostri studi e filosofie varie, ma sempre la parola che spiega la parola. Così l'interpretazione sicuramente sarà corretta. Guardando sempre al principio che la somma della parola è verità. La somma della parola è verità. E la parola, quando è necessario, perché è impossibile prendere quel passaggio letteralmente, quando è proprio necessario, ecco quindi che dobbiamo comunque trovare una spiegazione sempre strettamente legata alla parola, che proviene dalla parola, cioè la parola che spiega la parola. Non siamo noi con la nostra mente che possiamo dare una certa spiegazione. Diciamo noi cosa possiamo aggiungere. Noi possiamo spiegare il concetto in più modi diversi, aggiungiamo le nostre parole, per spiegare quel concetto biblico, ma non ci dobbiamo mai allontanare da quel concetto biblico. Noi usiamo altre parole per spiegare, no? Figure, noi cerchiamo in tutte le maniere di spiegare quel concetto. Ecco, lì ci possiamo muovere, ma non ci possiamo mai allontanare dal punto fermo, che è la parola in ogni dottrina, in ogni concetto, in ogni insegnamento, in ogni condotta, in ogni pensiero che noi dobbiamo avere. Non si deve mai allontanare nulla, per nulla, il cristiano dalla parola di Dio. E dalla parola viene appunto anche la fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio, senza fede non si viene esauditi nella preghiera. E quelli che non hanno fede, qui Giacomo, come li definisce? Li definisce, sono simili a un'onda di mare che è agitata e spinta qua e là. Un'onda di mare che va e viene, va su, va giù, va a destra e va a sinistra, va a destra e va a sinistra, va da una parte e va dall'altra, non è ferma come una roccia, no? Non è come una roccia ferma, una montagna, una roccia in una montagna. Ma il mare è diverso, è in continuo movimento, non sta fermo. E così sono quelli che non hanno fede, non sono fermi mai da una parte, saltellano da una parte all'altra, perché non hanno fede, capite? Guardate com'è importante, com'è importante. Non hanno quella fermezza, quella sicurezza. Perché non sono sicuri, capite? Non hanno certezza, non hanno sicurezza e quindi per loro provano un po' qua, provano un po' là, sono instabili. Dice ancora Giacomo che sono uomini di animo doppio, instabili in tutte le loro vie, in tutte le sue vie. Sono instabili, sono uomini instabili, quelli che non hanno fede in Dio, che non si attengono strettamente quindi alla parola. Perché, vedete, essendo la fede strettamente connessa alla parola, uno che disprezza la parola, che non ne tiene conto, sappiate con certezza che non hanno neanche fede, capite? Cioè, dal disprezzo che uno ha della parola, io comprendo, avendo letto le condizioni, avendo letto che la parola è strettamente legata anche alla fede, se uno disprezza la parola, ma io posso già dire con certezza, quello lì è un uomo che non ha fede, è un uomo d'animo doppio, è un uomo instabile in tutte le sue vie. Avete capito? Basta non attenersi alle scritture, e noi già sappiamo come sono fatte le persone. Non c'è bisogno di conoscerle dalla mattina quando si svegliano fino alla notte, quando vanno a letto. Perché io già lo so, capite? Non ho bisogno di conoscere i falsi dottori, perché siccome disprezzano la parola di Dio, io già so che non hanno fede, non hanno sapienza, non hanno quell'intelligenza e quella guida dello Spirito Santo e di Dio, e quindi si conducono male, sono uomini d'animo doppio, instabili in tutte le loro vie, perché disprezzano la parola. Io già lo so come parlano le persone, io mi faccio già un quadro di chi sono queste persone, soprattutto se disprezzano la parola, soprattutto se dicono questo comandamento non è più per oggi, questo comandamento non è più valido, oggi siamo nel 2014, ma questo va interpretato, ma questo bisogna andare a vedere l'originale cosa dice, ma questo Gesù non lo vuole. Cioè, tutti i pensieri umani che non provengono dalla parola, e quindi provengono dal suo cuore malvagio. E quindi cosa si comprende in questi casi? Si comprende che sono lontani dalla parola. Quindi la conseguenza qual è essere lontani dalla parola e disprezzarla, non attenersi strettamente alla parola, significa che non stanno crescendo nella fede, perché la fede viene solo dalla parola. La fede cresce in noi perché ci atteniamo alla parola. Non è che cresce così, ci viene donata gratuitamente dallo Spirito Santo, inizia a essere in noi nel momento in cui siamo nati di nuovo, in cui si nasce di nuovo. E da quel momento bisogna farla crescere, bisogna alimentarla, bisogna svilupparla. E come dice la scrittura che bisogna fare, la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. E questo lo leggiamo, lo andiamo proprio a leggere, così vi dico anche il passo dove sta, perché è importante. 10, 17, romani 10, 17. Così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Vedete? La parola di Cristo. Dov'è la parola di Cristo? È la parola di Dio, no? E quindi se la parola di Dio, se la Bibbia è parola di Dio, io mi attengo strettamente ad essa, è la guida della mia vita, io credo che sia parola di Dio, ci credo, sono pienamente convinto che sia parola di Dio, e quindi quando leggo che Gesù ha guarito, io credo, capite? La mia fede cresce nelle guarigioni. Se io leggo che ci sono stati nella Chiesa sogni e visioni, si sono manifestati che Dio ha stabilito profeti, dottori, apostoli, io leggendo la scrittura credo, la mia fede cresce, comincia a crescere, a credere a quello che dice la parola. Capite? Ecco come funziona il credere, crescere nella parola, nella fede, crescere nella fede attraverso lo studio della parola, attraverso lo studio della parola si cresce nella fede, quindi è fondamentale non allontanarsi mai dalla parola, fratelli, fratelli, ecco, è importantissimo, è importantissimo studiare, ecco perché io soffro tantissimo quando so, un fratello mi vengono a dire talvolta, io sono dieci anni, quindici anni, vent'anni nella fede, ma non li vedi, non vedi che amano la parola, questo cosa mi fa capire, ma questi dove sono cresciuti nella fede, come fanno, come hanno passato vent'anni in Cristo senza apprezzare i passaggi delle scritture, senza farli suoi, io posso capire che uno non si ricorda i capitoli, i versetti, ma uno, un credente, deve amare la parola, cioè non se ne deve distanziare mai, non se ne deve allontanare mai, perché è cibo, cibo per la nostra anima, è vero cibo, è il pane che è disceso dal cielo, è questo, è il nostro vero cibo, cibo per la nostra anima, che ci dà quella forza di vivere cristianamente ogni giorno, ci dà la forza, la forza che ci è necessaria, quella forza spirituale per vivere come piace al Signore ogni giorno, quindi veramente mi, 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 non mi irrita, mi lascia meravigliato il fatto, stupefatto il fatto che tanti anni nella fede e non si conoscono, e non sono attaccati alla parola, non sono attaccati, vanno nei locali di culto senza portarsi la propria Bibbia personale appresso, ma è terribile, questi, ma cosa vanno in giro a fare? Io non la lascio mai, la mia, quasi mai, diciamo, quando vado a lavorare non me la porto, ce n'ho una lì, ma la mia, quella, la mia Bibbia, quella che uso di solito, non me la porto con me, ce n'ho una in macchina, ce n'ho una al posto, all'ufficio, quando ogni tanto mi viene un dubbio, anche se sto lavorando, prendo, e vado a guardare, mi viene un pensiero, vado a guardare, non è che vado lì a studiare, quando sto lavorando, sto lavorando, ma capita, qualche volta, no, sto pensando, sto facendo una cosa, sto anche pensando, e vado a vedere cosa, cosa c'è scritto, in quel punto, cosa dice il Signore, in certe cose, per certi argomenti, ma ci vuole un attaccamento particolare, alla parola di Dio, perché, vedete, anche quello che sta succedendo attualmente, voi sapete che c'è un po' di modi, movimento, nelle varie organizzazioni, nelle varie denominazioni, nelle varie comunità, c'è un po' di movimento, un po' di terremoto, un po' di scossoni, negli animi delle persone, cos'è che ha creato questo scossone? Certamente non sono gli uomini, nessun uomo, può scuotere nell'animo più profondo delle persone, cos'è stato a scuotere? Ebbene, a scuotere gli animi, è stata la parola di Dio, la verità della parola di Dio, quindi, che infatti, la parola di Dio è vivente e permanente, la parola di Dio è così potente da penetrare, in profondità nell'uomo, fino a dividere l'anima dallo spirito, capite, è come una spada a doppio taglio, che penetra in profondità la parola. Quindi, se è la parola che ha il potere, la potenza, di penetrare profondamente nei cuori degli uomini, ma io che cosa mi metto? Ad annunziare la filosofia di Platone? O annunziare le predicazioni di Gesù e di Paolo? Se io credo, fermamente, che la parola di Dio sia potente da penetrare profondamente nei cuori, mi metto ad annunziare la parola di Dio, non la filosofia di Platone, o di qualcun altro, sceglietevi voi quello che più vi aggrada, di filosofo. Capite? Quindi è la parola di Dio, ma non solo penetra negli altri, quando la predichiamo, ma penetra anche in noi, quando la leggiamo, quando leggiamo la parola, quella parola che è inchiostro su carta, quando la leggiamo e penetra dentro di noi, prende vita. Capite? La parola di Dio è vivente. È carta, perché se la buttiamo nel fuoco, brucia. Ma quando l'uomo la legge, quando l'uomo si specchia nella verità della parola di Dio, questa prende vita in lui, prende vita. C'è vita nella parola di Dio che leggiamo. Quindi sapendo tutte queste cose, noi ci accostiamo con piena fiducia, con piena fiducia alla parola di Dio, sapendo bene quello che andiamo, quello che facciamo e quello che è la parola, che ci dà la vita, che ci fortifica nella fede, che ci sostiene, che ci dice e come ci dobbiamo condurre e cosa dobbiamo fare, e illumina il sentiero per cui dobbiamo camminare. Vedete com'è importante attenersi strettamente alle scritture, alle scritture che ci fortificano nella fede, perché senza fede non si attiene l'esaudimento della preghiera. Un'altra condizione, ora passiamo all'altra condizione, una condizione particolare per ottenere l'esaudimento della preghiera. Questa condizione, diciamo, questa condizione appartiene a Dio. Leggiamo in Prima Giovanni, al capitolo 5 di Prima Giovanni a versetti dal versetto 13. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. E questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se vedete di nuovo il se, la condizione, se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Egli ci esaudisce. Vedete? Quindi, qui la condizione, un'altra condizione importante da tenere conto per quanto riguarda l'esaudimento della preghiera è la volontà di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi domandiamo qualcosa, noi che ci comportiamo santamente, ci preghiamo con fede, possiamo lo stesso non essere esauditi. Perché? Perché magari non era volontà di Dio. Quindi, la volontà di Dio è quella volontà che Dio ha di voler esaudire oppure no le nostre preghiere. Quindi, mentre noi ci dobbiamo comportare santamente, ci dobbiamo, dobbiamo avere fede quando preghiamo, la volontà di Dio dipende da Lui, questo dipende da Dio. E' chiaro che noi siamo chiamati a studiare quale sia la volontà di Dio, a conoscerla, quindi studiando le scritture, noi andiamo a conoscere anche qual è la volontà di Dio, una velocità da prima, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi astegnate dalla fornicazione, che possediate il vostro corpo in santità e d'onore, quindi noi sappiamo che questa è volontà di Dio e ci dobbiamo attenere a queste cose, fare quello che piace al Signore, quindi attraverso le scritture un'altra cosa che si ottiene è conoscere la volontà di Dio, quella volontà che è necessario conoscere per ottenere l'esaudimento della preghiera. Faccio un esempio, se io chiedo io credo che Dio possa fare tutto quello che lui vuole, ma se io gli chiedessi signore fammi diventare capo della Repubblica, presidente della Repubblica o primo ministro di questa nazione perché voglio aiutare tutta la nazione, no? Anche se prego con fede e non mi sto conducendo male, ma ci sono buone probabilità che questo non sia volontà di Dio che io diventi presidente o primo ministro di questa nazione perché sapete che il regno di Dio non è di questa terra, il regno di Dio è dentro di noi, quindi non ci dobbiamo occupare di politica, quindi già la volontà già si capisce che è contraria alla volontà di Dio, quindi Dio anche se io ho pregato con fede, anche se ho pregato e non mi stavo conducendo male, se io gli chiedo queste cose, Dio non mi esaudisce perché non è secondo la sua volontà, capite? Quindi talvolta noi non veniamo esauditi, non perché diciamo il Signore non ci ascolta o non ci vuole esaudire perché siamo mancanti, ma semplicemente perché quella espressa cosa non fa parte della volontà di Dio, il Dio ha in serbo per noi qualcos'altro ma non quello, non quello, quindi dipende dalla volontà di Dio, quindi voglio dire se noi stiamo pregando per qualcosa e non siamo ancora stati esauditi, non vi scoraggiate, non vi abbattete fratelli, perché? Perché talvolta ci sono delle cose che noi domandiamo che non sono secondo la volontà di Dio e Dio non ci esaudisce, ed ora appunto andiamo a vedere alcuni esempi, vedremo alcuni esempi di richieste fatte a Dio che non sono secondo la volontà. Intanto leggiamo quello che dice Giacomo. Quello che dice Giacomo, Giacomo al capitolo 4 ai primi versetti dice, scrive queste parole Donde vengono le guerre e le contese fra voi? non è Egli da questo, cioè dalle vostre volutà che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete ed invidiate e non potete ottenere, voi contendete e guerreggiate, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quindi qui Giacomo vedete dice voi non avete perché non domandate quindi la volontà di Dio verso noi qual è? E che noi tutte le cose di cui abbiamo necessità e desideriamo dobbiamo renderle note a Dio in preghiera anche se lui già lo sa noi sappiamo che lui già lo sa ma la volontà di Dio è che noi andiamo ci chiudiamo nella nostra cameretta e ogni nostro bisogno e desiderio e cose necessarie li andiamo ad esporre a Dio nella nostra cameretta nel nostro luogo facciamo questo viaggio davanti al trono della grazia per spandere la nostra anima i nostri sentimenti e tutte le nostre richieste tutte le nostre richieste devono essere rese note a Dio in preghiera quindi qui Giacomo dice voi non ricevete semplicemente perché non domandate quindi ci possono essere delle cose che noi non abbiamo ricevuto semplicemente perché? perché non le abbiamo domandate non le abbiamo domandate o qualcuno non ha ricevuto qualcosa perché non le ha ancora domandate le riceverà quando le domanderà quindi è volontà di Dio che vengano domandate quindi se uno non le riceve non le riceve magari perché non le ha domandate quindi la volontà di Dio è che noi innalziamo le nostre preghiere facciamo le nostre richieste a Dio di tutto quello di cui abbiamo bisogno e necessità lo rendiamo noto a Dio in preghiera poi ancora Giacomo dice domandate e non ricevete quindi siamo nel caso in cui le cose vengono domandate però perché vengono domandate al versetto 3 vengono domandate vengono domandate domandate male per spendere nei vostri piaceri capite se uno dice signore aumentami lo stipendio no perché perché voglio giocare d'azzardo perché voglio farmi le vacanze al mare perché perché voglio comprarmi un costume nuovo voglio comprarmi una collana d'oro nuova io signore fammi avere i soldi per comprarmi una collana d'oro nuova capite ma questo essendo che Dio è contrario le scritture ci insegnano che i monili le collane l'oro l'argento appartiene sia a Dio tutto appartiene a Dio ma noi non ci dobbiamo adornare l'uomo nell'uomo nella donna si deve adornare di ore di argento e di cose inutili di orpelli vari inutili quindi se noi domandiamo se il credente domanda qualcosa per per il proprio piacere che è contrario alla volontà di Dio questi non riceverà non riceverà capite perché la volontà di Dio è contraria a queste richieste la volontà di Dio è contraria quindi quindi quando si richiede qualcosa che è contro la volontà di Dio non la si ottiene e quindi questa contrarietà alla volontà di Dio può essere diciamo una cosa sbagliata ma può anche essere una cosa che non è sbagliata nel senso che se io gli domando faccio un esempio gli domando signore fai di me un apostolo magari lui siccome ha già stabilito ogni cosa lui è un buon desiderio non è che è un desiderio sbagliato io voglio servirti fai di me un apostolo perché voglio andare a predicare l'Evangelo in un'altra nazione ebbene magari il Signore non ha non ha stabilito di donarmi quel ministerio ma di darmene un altro diverso oppure di darmi altri doni altre altre cose che non sono un ministerio faccio un esempio quindi non sarò esaudito anche se ho pregato con fede anche se non sto vivendo nel peccato anche se io quindi mi sto conducendo come piace il Signore ho pregato con fede perché non vengo esaudito ma non viene esaudito perché non è secondo la volontà di Dio quindi ecco perché non bisogna scoraggiarsi quando non si viene esauditi non è detto o non è il tempo quello di ottenere una tale cosa oppure vuol dire che non è secondo la volontà di Dio ma non è che ci dobbiamo scoraggiare non è che ci dobbiamo abbandonare dire vedi Signore questo non me l'ha dato questo non me l'ha dato non prego più è inutile che prego è inutile che vada al Signore perché tanto a me non mi ascolta e questo si è fatto il gioco del diavolo così del maligno perché non aspetta altro che insinuare il dubbio nella preghiera nei confronti di Dio vedete bisogna sapere che le preghiere vengono esaudite se è secondo la volontà di Dio quindi vedete la scrittura ci fa sapere anche queste condizioni per essere esauditi nella preghiera e quindi siamo più sereni e tranquilli siamo sereni perché la conoscenza la verità ci rende liberi la verità ci conduce per sentieri di giustizia di verità di giustizia di luce e ci allontana dalle tenebre dall'errore quindi vedete come è così così importante anche parlando della preghiera la parola vedete esce fuori assumendo tutta la sua importanza tutte le altre cose comunque ruotano sempre e solamente tutte attorno alle sacre scritture ecco perché noi insistiamo di continuo a leggere e studiare le scritture perché tutto ruota attorno a quelle quindi io se riesco a spingere i fratelli a studiare le scritture sto raggiungendo un grande risultato anche per le altre cose che ancora non ho detto perché se le studieranno da soli e sarà fortificato quello che ci diciamo tra di noi se uno poi le studia nelle scritture viene fortificato quindi le radica in sé fa radici profonde non sarà più smosso su quegli argomenti su quelle dottrine sulle altre le studierà e piano piano le imparerà capite e quindi quindi la volontà di Dio è importante per essere esauditi voglio farvi altri due esempi vi presenterò due esempi altri di Paolo e di Gesù che innalzano una preghiera a Dio che non viene esaudita perché perché quello che hanno chiesto non è secondo la volontà di Dio non è secondo la volontà di Dio non era perché stiamo parlando al passato non era volontà di Dio e quindi non sono stati esauditi andiamo prima a quella di Paolo la seconda epistola di Corinto al capitolo 12 sì 12 12 dal versetto dal versetto 7 e perché io non avessi ad insuperbire a motivo della eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una scheggia nella carne un angelo di Satana per schiaffeggiarmi on Dio non insuperbisca tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza cosa è successo il Dio vedete a motivo di che cosa Paolo era un servitore di Dio apostolo aveva ricevuto l'Evangelo direttamente da Gesù Cristo questo lo leggiamo nei primi capitoli di Galati di Paolo ai Galati Gesù gli appariva e gli spiegava le scritture gli spiegava l'Evangelo gli spiegava la parola di Dio ha ricevuto l'Evangelo non dagli uomini ma da Gesù Cristo ha ricevuto altre rivelazioni potenti e gloriose da Dio è stato rapito in cielo fino al terzo cielo ha sentito cose che qui un po' prima udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire aveva ricevuto aveva ricevuto cose grandi da Dio rivelazioni potenti e gloriose da Dio il rischio qual era? che si potesse insuperbire inorgogliere perché badate bene fratelli quando uno anche quando uno si santifica io questo lo dico per esperienza quando uno comincia a santificarsi veramente comincia a sentirsi separato dagli altri anche da quei fratelli che non si santificano quando uno comincia a studiare le scritture profondamente e Dio gli dà anche la memoria di ricordarle vi sentite vi sentite diversi dagli altri io mi sono sentito diverso dagli altri ho cominciato a inorgogliermi e dopo io mi sono innalzato e Dio mi ha schiacciato poi mi ha sbattuto di nuova terra faccia terra nel fango perché mi ricordassi che sono fango e non sono niente che quello che avevo l'avevo ricevuto da Dio quindi non dovevo considerarmi superiore agli altri non dovevo in alcuna maniera considerarmi superiore agli altri di conseguenza ho imparato quella lezione sulla mia pelle ed è quello che Gesù ha fatto anche con anche con Paolo perché perché anche Paolo aveva ricevuto grandi cose da Dio il rischio era quello che si insupervisse si inorgoglisse allora il Dio cosa ha fatto ha messo in lui una scheggia nella carne cosa sia questa scheggia nella carne io non non lo so però era una scheggia nella carne che sicuramente gli produceva fastidio e dolore insomma una scheggia nella carne non è che non è che faceva bene ma non solo questo un angelo di Satana lo schiaffeggiava cioè un angelo di Satana era con Paolo che lo schiaffeggiava così è scritto io così vi dico perché così è e cosa ha fatto Paolo aveva queste cose che lo disturbavano no in particolare qui dice dice tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ora se era una figura di qualcosa avrebbe dovuto pregare in un'altra maniera ma se vicino a te c'è un qualcuno che ti schiaffeggia e ti dà fastidio tu cosa fai cerchi di allontanarlo vedete la sua preghiera è stata quella che Dio allontanasse quel quel quell'angelo di Satana che lo schiaffeggiava e quindi è una conferma ancora che anche questo passaggio va preso così come scritto e ha pregato tre volte ma Dio cosa gli ha detto cosa gli ha risposto gli ha detto no il Dio gli ha detto no la mia grazia ti basta cioè quello che ti ho dato già ti basta perché lo scopo era sempre quello che non si doveva inorgoglire l'Apostolo Paolo questo cosa vuol dire vuol dire che la volontà di Dio era che quell'angelo di Satana lo schiaffeggiasse e non che si allontanasse da Paolo quindi Paolo poteva avere tutta la fede di questo mondo che voleva anche avendo tutta la fede e conducendosi in modo santo anche se pregava il Dio di allontanarlo da lui il Dio il Dio non lo ha allontanato perché perché la volontà di Dio era quella era quella di lasciarlo lì affinché non si insupervisse non si inorgoglisse capite per mantenerlo umile per ricordargli che è nulla che è carne e polvere noi per quanto potremo crescere nella conoscenza della parola nella santità fratelli nel momento in cui ci sentiamo superiore agli altri stiamo peccando quindi cadremo sicuramente dal piedistallo che ci siamo creati quindi fate attenzione anche all'orgoglio e la superbia esaminate voi stessi affinché non siate trovati mancanti da questo punto di vista perché badate bene chi si innalza sarà abbassato questa è una regola tutto quello che viene tirato in alto prendete una pietra tiratela in alto nel cielo quello che sale poi scende è la regola fisica ebbene la stessa regola biblica chi si innalza sarà abbassato quindi anzi noi dobbiamo fare il contrario perché altresì scritto che chi si abbassa sarà innalzato da Dio quindi noi ci dobbiamo abbassare umiliare davanti a Dio servire la chiesa di Dio con umiltà per essere innalzati poi da Dio ma se ci innalziamo verso nei confronti degli altri poi Dio ci abbasserà e Paolo appunto per non sbagliare in questo per non insuperbirsi Dio ha mandato un angelo di Satana gli ha messo una scheggia nella carne e un angelo di Satana per schiaffeggiare e quindi questo per questo motivo Paolo non è stato esaudito cioè la volontà di Dio era quella che era quella che è contraria a quella di Paolo Paolo ha pregato per ottenere la liberazione ma non l'ha ottenuta non l'ha ottenuta perché non era secondo la volontà di Dio vedete non è che Paolo era senza fede o aveva poca fede o ha pregato senza fede Paolo l'Apostolo Paolo era un esempio anche lui di fede quindi è avvenuto che Paolo ha pregato con fede ma non è stato lo stesso esaudito perché non era secondo la volontà di Dio quindi vedete questo ci incoraggia a domandare a Dio di non abbatterci se stiamo pregando per qualcosa di cui ancora Dio non ci ha esaudito che può essere che non è secondo la sua volontà ma questo non vuol dire che Dio non ci gradisce o che Dio non ci ascolta o che Dio non ci donerà altre cose se non ci dà quelle quindi quindi dobbiamo dobbiamo mantenerci fermi saldi non dobbiamo scoraggiarci fratelli a volte non è anche il tempo di ottenere l'esaudimento della preghiera alcune cose i santi uomini di Dio le hanno ottenute dopo molto tempo non subito e quindi può essere anche che non è giunto ancora il tempo di ottenere una determinata cosa da Dio un esaudimento di una certa preghiera quindi dobbiamo dobbiamo perseverare a domandarla senza scoraggiarci senza batterci senza smettere non cessate mai di pregare e non cessate mai se voi ritenete che quella cosa sia secondo la volontà di Dio ne avete bisogno è necessaria è un bene continuate insistere a domandare domandate domandate perché questa è la volontà di Dio un altro esempio prenderò appunto Gesù Gesù nella sua umanità perché Gesù era non solo era vero Dio quando era in carne perché è Dio è sempre stato Dio ma quando era in carne era vero Dio così come anche Gesù era vero uomo in Gesù abitavano le due nature quella umana e quella divina quella umana però era priva di peccato attenzione perché se no non possiamo dire che Gesù era senza peccato se la natura umana in lui c'era del peccato come invece c'è in noi negli uomini nel peccato nel corpo nella carne c'è sempre una natura di peccato c'è sempre una inclinazione al peccato ebbene questa natura di peccato non c'era in Gesù non c'era infatti non è stato neanche concepito non è stato neanche concepito come sono stati concepiti tutti gli uomini tranne Adam e Deva che Adam e Deva voi sapete che non sono stati concepiti perché sono stati creati da Dio così come erano invece tutti gli altri uomini sono stati concepiti c'è da un rapporto tra marito e moglie tra un uomo e una donna in questo concepimento in un salmo è scritto che il salmista dice così che sono stato dice queste parole sono stato concepito nel peccato quindi anche nel concepimento c'è un peccato che viene poi trasmesso quindi al bambino è stato concepito nel peccato quindi il peccato già lo tocca non solo quello discendente da Adamo il peccato originale di Adamo ma si porta il carico anche del peccato della congiunzione carnale tra marito e moglie dico questo perché questa è la natura dell'uomo ma non c'era questo peccato non c'era né quello originale di Adamo e non c'era neanche quello dice quello perché fu procreato da un uomo e una donna perché 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 non ci fu una unione carnale che fece venire diciamo sulla terra attraverso il grembo materno di Maria Gesù venne appunto senza ma lo Spirito Santo adombrò quella donna adombrare nel senso che operò in lei non c'è nessun tipo di rapporto carnale non c'entra niente c'è queste magari non facciamo spazio a pensieri che purtroppo talvolta magari si sente dire da certe persone che solo per disprezzare il nostro Dio per disprezzare la parola e Gesù è venuto sulla terra è venuto sulla terra con carne simile alla nostra ecco perché è scritto carne simile alla nostra perché non era esattamente come la nostra perché nella nostra abita il peccato in quella di Gesù invece non abitava il peccato però tuttavia dobbiamo riconoscere che era una vera natura umana però in lui abitavano sia la natura divina che la natura umana ora vediamo vediamo il passo che leggeremo nel Vangelo di Luca ci fa capire la natura umana di Gesù cioè ci fa capire che veramente Gesù era anche vero uomo uomo come noi che può comprendere le nostre debolezze le nostre difficoltà le nostre sofferenze i nostri dolori le nostre preoccupazioni il nostro dolore lo può capire perché perché era vero uomo era anche vero uomo e al capitolo 22 al versetto 42 qui siamo nella nella notte in cui Gesù fu arrestato Gesù andò nel Gezzemani a pregare e pregò il padre tra le cose che disse nella preghiera appunto disse queste parole padre se tu vuoi allontana da me questo calice però non la mia volontà ma la tua sia fatta voi sapete che Gesù è venuto a fare la volontà del padre suo sapeva Gesù sapeva che si avvicinava un momento di grande dolore e sofferenza perché voglio far notare questo passaggio perché magari si pensa ma Gesù è andato in croce perché era Dio ha potuto sopportare tranquillamente ogni sofferenza perché era Dio no lui la sopportò come vero uomo come la sopporteremo noi se ci mettessero nella croce né più né meno perché lui ha dovuto passare quelle sofferenze per farci capire a noi che se ci rivolgiamo a lui se invochiamo lui se gridiamo a lui per ottenere qualcosa per ricevere qualcosa egli può simpatizzare con noi perché ha passato quelle sofferenze capite vere sofferenze non sofferenze diciamo false nel senso che essendo Dio ha fatto scomparire il dolore e quindi non ha sentito niente ha potuto sopportare no per la sua vera natura umana ha dovuto sopportare e soffrire come avrebbe sofferto un uomo che che era sulla croce che 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 avrebbe patito un uomo uno solo uomo che avrebbe che aveva un uomo che avrebbe avuto solo la natura umana senza la natura divina avrebbe sofferto le stesse cose che ha sofferto lui cioè Gesù ha sofferto per noi per simpatizzare con noi per farci capire che noi ci possiamo rivolgere a lui tranquillamente perché lui ci comprende pienamente perché è stato uomo come noi e quindi è stato tentato in ogni cosa come noi Gesù ha sofferto duramente ha sofferto duramente ed è morto duramente quindi possiamo tranquillamente andare a lui e invocarlo perché e chiedergli qualsiasi cosa ci sentiamo di domandare perché egli può capirci a fondo profondamente perché ha sofferto come noi e qui nel passo che abbiamo letto avendo una vera natura umana avendo una vera natura umana e vedendo arrivare quella sofferenza quella morte dolorosa forte nella sua natura umana Gesù ha invocato il Padre allontana da me questo calice ma non la mia volontà sia fatta ma la tua vedete quindi quello che conta quello che contava era la volontà di Dio naturalmente Gesù non fu esaudito per quanto riguarda questo lo leggiamo poi in ebrei si legge in ebrei non fu esaudito perché non fu liberato dalla sofferenza e dalla morte però ottenne lo stesso grazie anche a questa preghiera ottenne che cosa di essere liberato dal timore della morte dovete patire ma fu liberato dal timore della morte vedete anche queste parole sono molto incoraggianti per noi perché adesso noi non siamo perseguitati ancora non siamo messi a morte non siamo incarcerati però badate bene studiatele queste parole scrivetele a chiare lettere con lettere di fuoco nella tavola dei vostri cuori perché saranno queste parole che vi sosterranno quando sarete davanti alla sofferenza perché Gesù ha sofferto e queste parole ci ritorneranno in mente e ci aiuteranno a superare determinate difficoltà che si presenteranno quindi che io ho citato in modo particolare legato alla preghiera questo passaggio per farvi capire che Gesù era un duce e il nostro duce è perfetto esempio di fede quindi se qui non è stato esaudito non è perché non aveva fede o si era condotto malamente o era corrotto nella condotta sviato quanto alla verità no non è stato esaudito semplicemente perché non era volontà di Dio non era volontà di Dio quello che ha chiesto e non è stato esaudito da questo punto di vista e gloria a Dio perché doveva morire per noi perché è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione quindi se lui non fosse morto e non avesse sparso il suo sangue noi saremmo ancora nei nostri peccati perché senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato quindi Gesù ha sacrificato se stesso il sangue è stato sparso e i nostri peccati sono stati purificati grazie mediante la fede nel sacrificio di Cristo quindi vedete il frutto del tormento dell'anima sua qual è stato è stato quello di avere un popolo di acquistare un popolo santo a Dio e in questo passaggio appunto perché ha fatto alla fine si è sottomesso alla volontà di Dio e ha fatto quello che Dio ha voluto quindi vedete sottomettersi alla volontà di Dio poi si porta il frutto che Dio ha stabilito capite se noi non ci sottomettiamo alla volontà di Dio succede succedono dei disastri nella nostra vita e nella vita di coloro che ci sono vicini perché se non facciamo la volontà di Dio non ci sono i frutti che dovevano esserci non ci saranno e quindi ci saranno solo dei danni vedete dunque vedete dunque fratelli vi ho portato questo insegnamento questa esortazione a pregare avendo piena fiducia nel Signore che il Signore ci ascolta e che ci sono determinate condizioni a cui bisogna attenersi per ottenere l'esaudimento delle nostre preghiere e l'esortazione comprendeva anche il fatto di perseverare della preghiera un'esortazione a non scoraggiarsi dal pregare a continuare a domandare quello di cui abbiamo bisogno perché perché il Signore ci ascolta può essere che se non siamo stati ancora esauditi che ancora il tempo non è giunto e può essere anche che non è volontà di Dio questo e studiando le scritture il più possibile conosciamo qual è la volontà di Dio e quali sono le cose che dobbiamo domandare a Dio questa era l'esortazione a attenersi a queste condizioni per ottenere questa era la mia esortazione nei vostri confronti per considerare le condizioni per ottenere l'esaudimento alle vostre preghiere a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli di Dio